Gioca in patria nel Beveren, riceve Silla, pallone e Orro prova a giocare di seconda, viene marcata, attenzione, si gioca ancora, c'è il punto Italia con le Belghe che festeggiavano e si sono completamente disinteressate di quello che stava succedendo in campo. Che regalo, permette di vedere questo veramente errore prese dalla fuga. Salvataggio miracoloso delle nostre, rivediamolo. Qui Orro prova la giocata di seconda, c'è il muro di Panavermatt, Kirichella in qualche modo, Orro e poi De Gennaro spinge il pallone di là, guardate le Belghe che festeggiano, e invece il pallone è ancora in gioco. Incredibile quello che si è visto. Guardate, già tutte a festeggiare, addirittura Janssens dopo il tocco del muro, senza nemmeno guardare come andava a finire.